buonasera buonasera a tutti da karim allora preparo il video per il lotto anche il 10 all'otto ok allora iniziamo questa settimana abbiamo fatto due volte l'oro con con 10 all'otto ok e poi sul sull'otto è uscito solo la 36 se non sbaglio sono nazionali bastano anche su vari se non sbaglio e poi basta non abbiamo fatto altro allora andiamo avanti come state tutto bene spero di sì ok io sempre qua le previsioni sempre date su youtube continuo a darle il lotto il 18 a parte milioni dei che ho cambiato ok che sto facendo delle prove ma penso che rimane sempre così come abbiamo sempre fatto ma come comunque le previsioni gratuitamente sempre ci sono sempre quelli che mi sigono sui gruppi anche su youtube ok e basta tutto il resto va tutto bene ok allora questa volta ho cambiato bari e napoli non di solito faccio bari venezia questa volta a giocare su bari napoli e tutti più nazionali che la vuole giocare sui nazionali ok i numeri sono questi eccoli qua 77 e 74 ok su bari napoli e tutti speriamo già che escono al primo colpo ragazzi e mi raccomando giocate sempre poco qualsiasi cosa che metto giocate poco che hanno la possibilità di non giocare e come ho sempre fatto ok mi raccomando mi raccomando mi raccomando questo è sempre un gioco e cerchiamo di portare un po di fortuna per tutti come ho sempre fatti da anni 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 che lo faccio e ho fatto tante persone felici e via ok scrivete con calma dopo faccio anche il video di il dici all'otto e speriamo bene ok una della cosa qua tempo piove tutto oggi che piove diciamo piove 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 questa mattina no ma dal pomeriggio in poi piove 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 nel veneto da voi non lo so come il tempo è oggi che è domenica io ho pensato è frescato un po mi spesso che sta finendo da noi qua nel veneto l'estate sta finendo da voi che sud non ancora in calabria sentito che caldo in sardinia e puglia sta bene la mare qua inizia il fresco un pochino è abbassato tanto la temperatura veramente ok penso anche centro nord abbassato un po la temperatura ok allora adesso prepariamo anche il scusate si è spento prepariamo anche il 10 all'otto comunque 77 e 74 come volete lavori già ambo ambetto di solito tanti che giocano anche l'ambetto come volete ok alla vostra scelta e auguro a tutti buon continuo di serata e buon inizio della settimana ciao alla prossima buonasera buonasera a tutti da karim allora preparo il video per il lotto anche il 10 all'otto ok allora iniziamo questa settimana abbiamo fatto due volte l'oro con 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 10 all'otto ok e poi sul sul lotto è uscito solo la 36 se non sbaglio sono nazionali bastano anche su vari se non sbaglio e poi basta non abbiamo fatto altro allora andiamo avanti come state tutto bene spero di sì ok io ho sempre qua le previsioni sempre date su youtube continuo a darli il lotto il 10 all'otto a parte milioni dei che ho cambiato ok che sto facendo delle prove ma penso che rimane sempre così come avevo sempre fatto ma come comunque le previsioni gratuitamente sempre ci sono sempre quelli che mi si guardano sui gruppi anche su youtube ok e basta tutto il resto va tutto bene ok allora questa volta ho cambiato bari e napoli non di solito faccio bari venezia questa volta da giocare su bari napoli e tutti più nazionali che la vuole giocare su nazionali ok i numeri sono questi eccoli qua 77 e 74 ok su bari napoli e tutti speriamo già che escono al primo colpo ragazzi e mi raccomando giocate sempre poco qualsiasi cosa che metto giocate poco che hanno la possibilità di non giocare e come ho sempre fatto ok mi raccomando mi raccomando mi raccomando questo è sempre un gioco e cerchiamo di portare un po di fortuna per tutti come ho sempre fatti da anni e anni e anni che lo faccio e ho fatto tante persone felici e via ok scrivete con calma dopo faccio anche il video di Dici all'otto Dici all'ottima cosa qua il tempo piove tutto oggi che piove diciamo piove 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 no questa mattina no ma dal pomeriggio in poi piove 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 il veneto da voi non lo so come il tempo e oggi che domenica E' vabbè si è affrescato un po' mi spiace che sta finendo da noi qua nel veneto l'estate sta finendo Da voi che Sud non ancora in calabria sentito che caldo in sardinia Puglia Si sta bene la Mare Qua inizia il fresco un pochino E' abbassato tanto la temperatura Veramente Ok Penso anche il centro nord E' abbassato un po' la temperatura Ok Allora adesso prepariamo anche il Scusate si è spinto Prepariamo anche il Dici all'otto Comunque 77 E' 70 E' 74 Come volete La volete a ambo, ambetto Di solito Tanti che giocano anche l'ambetto Come volete Ok Alla vostra scelta E auguro a tutti Buon continuo di serata E buon inizio al dia Settimana Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima